Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. L'emozione è grandissima far parte di questa grande società con tutti questi campioni, è una cosa che non si può descrivere. È uno stile di vita, quindi ho lasciato tutto, perché poi quando vai via dalla Juve, sei stato 5 anni qua, ti leghi tantissimo alla città, alla Juventus, alla famiglia, e quindi quando torni resti sempre in famiglia, è una cosa fantastica. Non ci vedevamo da un po' di tempo, sembra che ci siamo visti ieri. Assolutamente sì, può lottare per lo scudetto, ha tra virgolette lo svantaggio, ma ha il vantaggio di giocare domenica domenica, quindi penso che possa lottare per lo scudetto.